Musica Mi trovo alla Villa Romana del Casale in compagnia di Rosalia Giangreco che è l'autrice di questo libro Villa Romana del Casale, viaggio tra i misteri. Rosalia un libro particolare dove affronti degli argomenti misteriosi? Beh misteriosi non tanto, diciamo che ho semplicemente ripreso un filone di studi che era già stato peraltro percorso negli anni 70 lo dico anche nel testo perché ho fatto riferimento tra i tanti anche al professore Settis che proprio negli anni 70 si occupò nel 75 esattamente di uno studio particolareggiato della Villa Romana del Casale, delle sue architetture e naturalmente delle sue iconografie quindi dei mosaici per cui il mio altro non è che un ripescaggio di una ipotesi che magari è stata messa nel cassetto per tanto tempo perché le menti dei più si sono arrovellate sulla identità di questo Dominus Philosophus. Ha individuato all'interno degli ambienti della Villa tanti simboli esoterici, dove si trovano, quali sono? Allora io utilizzo una espressione, una frase all'interno del testo e dico che qui in Villa tutto è simbolo quindi in verità i simboli sono disseminati in ogni ambiente della Villa e dico anche che in effetti osservando la pianta, anche la pianta della Villa ha una precisa connotazione simbolica nel senso che osservandola attentamente è come se le propaggini della Villa, cioè i lati più estremi della Villa andassero a toccare i punti di un pentagono. Il pentagono è un simbolo per eccellenza ha una sua valenza semantica che risale alla notte dei tempi e poi volendo parlare di simboli tucur, quelli diciamo più noti, quelli che conoscono anche i nostri figli abbiamo il nodo di Salomone, la stella a sei punte e diverse svastiche, le croci, le rose, anche i frutti per esempio nel cubicolo dei frutti ci sono le pere, i melograni che hanno una valenza semantica le castagne, cioè tutto ciò che lì è rappresentato ha un suo particolare simbolico Da qui la tua ipotesi che la Villa fosse una struttura riservata a una famiglia di culto Sì, anche perché il primo dato che salta agli occhi è sicuramente legato alle dimensioni della Villa nel senso che noi abbiamo 3500 metri quadrati di superficie architettonica costruita diciamo in piano e quindi al di là del fatto che negli anni passati i più hanno fortunatamente escluso l'ipotesi che si potesse trattare di una villa imperiale e tenuto conto del ruolo che queste ville hanno nella tarda antichità per cui ecco Piazza Armerina non è un unicum e questo è anche importante nel senso che certa simbologia che ho avuto modo di osservare e studiare in questa villa poi l'ho isolata anche in altre ville, il riferimento per esempio è alla Villa di Noto laddove compaiono dei simboli, soprattutto quelli relativi alla clamide indossata dal nostro Dominus e dal Dominus rappresentato in una scena di caccia proprio alla Villa di Noto che sicuramente farebbero pensare ad una analogia di utilizzo di queste ville e quindi ad una destinazione d'uso che oltre ad avere naturalmente chiari riferimenti legati all'economia della tarda antichità per cui così come d'altronde sostengono oggi gli studiosi di economia della tarda antichità queste ville erano dei veri e propri punti nevralgici dei poli che avevano lo scopo di gestire l'import e l'export per esempio delle granaglie per cui è chiaro che si fissano quasi dei punti cardinali che sono i terminali di partenza e i terminali d'arrivo di una fitta rete di trasporti che poi sono anche commerci che poi naturalmente sono anche relazioni sociali e allora in tal senso magari potremmo anche tracciare una sorta di triangolo ideale al centro c'è Piazza Armerina con la sua Villa del Casale, poco vicina d'altronde c'è la stazio di Filosofiana e quindi questo emporio, questa struttura straordinaria è troppo poco indagata e poco valorizzata e poi come terminali estremi sulla costa orientale abbiamo da un lato la maridotta Villa di Patti a nord e più a sud abbiamo la Villa di Noto allora se noi mettiamo nel calderone la valenza semantica della struttura architettonica spieghiamoci meglio per i nostri il significato della Villa i suoi mosaici, questi tappeti straordinari che trovano sicuramente degli esemplari assai simili ad esempio nell'Africa settentrionale per cui si è parlato di maestranze africane venute qui a realizzare questi splendidi mosaici ma se diamo il giusto significato a ciò che è rappresentato e che corrisponde ad una precisa scelta del committente allora risulta forse più chiaro dare una connotazione sia alla figura del Dominus che è già di per sé definito Philosophus quindi è qualcosa che ti fa pensare ad un uomo di una caratura diversa rispetto ad un aristocratico quindi per semplificare il tutto la Villa diventa un luogo di culto assolutamente sì, in cui appunto è il culto che va a ratificare, a supportare, a fortificare, a legare il Dominus e il suo entourage di tipo naturalmente economico, politico e quant'altro Rosalia, quindi visitare la Villa dopo la lettura del tuo libro diventa sicuramente un'esperienza più interessante Rosalia, dedichi questo libro a tuo figlio Salvatore io pensavo fosse piccolo invece ha 16 anni, complimenti Grazie Ti scusi del tempo che hai sottratto? Sì perché io ho trascorso sostanzialmente tutti gli anni della vita di mio figlio sui libri e di conseguenza siccome ho iniziato l'università che lui era nel mio grembo poi appena nato l'ho lasciato alle cure dei miei e sostanzialmente da allora ad oggi non mi sono mai fermata Per concludere questa intervista voglio porti una domanda fai tu, rispondi, non rispondi, fai tu All'inizio del tuo libro ci sono due prefazioni una è una prefazione del sindaco della città di Piazza Almerina, il dottore Fausto Carmelo Nigrelli e una di un massone anonimo Bello sindaco posso capire, ti ha fatto questo regalo bene, è il massone? Allora io lo dico nella mia di prefazione che mi sono accostata a ogni studio che ha sancito poi il percorso della mia brevissima carriera sempre scevra da ogni preconcetto e pregiudizio per cui è chiaro che quando si vuole intraprendere uno studio di questo genere è necessario fare una full immersion nell'adentrarsi in scienze, discipline, filosofie che molte volte ci risultano ostiche per il semplice fatto che magari non siamo dentro per cui è normale che negli anni durante i quali ho studiato la villa io mi sia avvicinata alla cultura massonica e ho avuto anche la fortuna di poter studiare insieme a qualcuno E quindi che cosa ci puoi raccontare di questa realtà particolare? Ma non è una realtà particolare vedi parlare di cultura massonica, parlare di massoneria altro non è che parlare delle nostre origini e dei nostri riti di quelli che uno studioso come Goffman ritiene siano tutt'oggi necessari è come quando la mattina ti alzi e per rito vai in bagno o vai a prendere il caffè Ti stavo chiedendo proprio questo quanto è attuale la massoneria oggi? Allora purtroppo devo dire che è poco attuale nel senso che chi pratica la massoneria fortunatamente ha una tavola di valori che è ancora intatta e inalterata quindi in una società in cui dominano altri valori o valori che possiamo considerare altra cosa dal termine valore propriamente detto allora è chiaro che risulta essere poco attuale e questo un po' mi dispiace ma soprattutto mi dispiace il modo con cui spesse volte i massoni siano trattati sui giornali perché in genere si associa la massoneria ad una forma di mafia che nulla ha a che vedere la segretezza dipende da altro e non da necessariamente uno scopo illecito o illegale di questo ne sono certa Rosalia complimenti per questo libro io agli amici di Start consiglio Villa Romana del Casale Viaggio tra i misteri Grazie a tutti